La parola alla consigliera Sensoli. Grazie Presidente. Io vorrei ricordare un dato, ossia l'esistenza della Commissione dei Marchi. Negli anni 70, l'indomani dell'alluvione di Firenze, venne istituita una commissione parlamentare che predisponesse un piano per la protezione idrogeologica di tutto il Paese. La Commissione dei Marchi, appunto. Il dato interessante è che i lavori della Commissione stabilirono che per mettere in sicurezza l'Italia intera ci sarebbe voluto un investimento pari a quello che attualmente sarebbero circa 40 miliardi di euro da distribuire in 15 anni. Le stime odierne di spesa sono rimaste le stesse e la situazione del territorio è peggiorata. Ne consegue che per il dissesto idrogeologico la prevenzione da almeno 43 anni non si è fatto pressoché nulla. Ricordo inoltre che lavorare costantemente in emergenza, oltre a mettere a rischio le vite di tutti noi, perché vorrei sottolineare che la natura purtroppo è molto democratica, quindi insomma non fa distinzioni, oltre a questo naturalmente il rischio, oltre al rischio personale di tutti quanti, il lavorare in emergenza moltiplica in maniera vertiginosa i costi per la gestione del territorio. Ci sono comuni che ancora non hanno un piano emergenze, altri come Rimini che ne hanno raffazzonato uno approssimativo e inefficace denominato Bossa e anche punto di partenza ad esempio dallo stesso assessore riminese alla protezione civile. Noi più che Bossa lo definiremo pezza, però vabbè lo dimostrano comunque le quattro emergenze vissute ad esempio nel riminese negli ultimi due anni, in una delle quali addirittura c'è anche scappato il morto ed è assurdo che per una mezza giornata di piogge intense i cittadini debbano rischiare la vita. Non si può dare tutta la colpa alla natura. Da anni denunciamo la cementificazione selvaggia, tutt'ora in corso. Basti pensare, e lo rinomino anche in questa seduta, al TRC e alla zona dell'ex Fiera di Rimini che poteva essere ridonata al Verde invece che sacrificata per le necessità di aggiustamento di bilancio dell'ente Fiera di Rimini. A parere nostro, finora la gestione è stata inadatta e la cura delle criticità del territorio è stata superficiale. Ci auguriamo che naturalmente questa gestione cambi e chiediamo che il dissesto idrogeologico venga veramente reputato una priorità imprescindibile. Grazie.